Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo accanto alla cripta di Santa Maria delle Grazie. Alle nostre spalle il percorso che ci porta a visitare tutti i luoghi di Padre Pio e attraverso queste immagini e queste foto raccontare la sua vita anche in altri conventi, in altri luoghi. Sappiamo che questa strana malattia lo portava a vivere fuori dal convento. Però oggi vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse nell'agosto del 1917, nei primi di agosto. Lui scrive questo, quando sarà o mio caro padre, ecco rivolgendosi al suo padre provinciale, padre Benedetto, che Gesù mi consumerà tutto nel suo santo amore? Quando potrò unirmi a lui strettamente per poter sciogliere il cantico tutto nuovo, il cantico della vittoria? Quando finirà questa lotta intestina tra Satana e la mia povera anima, che tutta vuole essere del suo sposo celeste? La debolezza del mio essere mi fa temere, mi fa sudar freddo. Satana con le sue arti maligne non si stanca di muovermi guerra, di espugnare la piccola fortezza col prendere d'assedio da per ogni dove. Insomma, Satana è per me come un potente nemico, che risoluto di espugnare una piazza non si contenta di assalirla in una cortina o in un bastione, ma tutta per ogni parte la circonda, in ogni parte la salta, in ogni parte la tormenta. Padre mio, le arti maligne di Satana mi incutono spavento, ma da Dio solo, per Gesù Cristo, spero la grazia di ottenerne sempre la vittoria e giammai la disfatta. Nella vostra lettera, caro padre, vi è un punto oscurissimo per me, che lascia sempre l'anima in braccia al più acerbo dolore e dal più straziante martinio. Il punto sculto è questo. Colui riprende un virgolettato della lettera del padre Benedetto e scrive, inchino a credere, trascrivo le vostre parole, che la rappresentazione fosca della vita passata, col martirio acuto dello spirito e del corpo susseguente, non sia operazione divina, ma piuttosto uno strazio di Satana. Specialmente se la cognizione del passato si versa su di colpe gravi, attuali o mortali, atti di ingratitudine. Alla vostra domanda del quando finirà il flagello non do altra risposta, se non che al riguardo sono all'oscuro di tutto. Il Signore si è chiuso in un mutismo completo.